È un grande onore, una grande responsabilità, sono molto grato al maestro Rizio per questo invito. Mi inorgoglisce molto, Milano è una grande città, gli Arcimboldi è un super teatro e la qualità della proposta musicale è straordinaria. L'orchestra del Marinsky è uno dei più grandi compagni, maggiori interpreti e conoscitori del repertorio russo e il maestro Gergiev è un uomo perché non si può incanalare la sua personalità solo come artista. È un uomo straordinario, un musicista coltissimo, meraviglioso, ma anche un uomo di grande lungimiranza, di grande scoperta, ha fatto tanto per la cultura russa, ha fatto tanto per la musica in generale, fa tanto per i giovani. È un concerto che mi dà molti stimoli e molta forza di volontà per fare, come sempre, ancora meglio del mio meglio. Grazie a tutti.